La paura dell'aereo La paura dell'aereo Mi vuoi uccidere, caro? E che ci fai qui, a questo posto sperduto? Cerco un criminale nazista che stava ad Auschwitz. E quando lo trovi, che ci fai? Non è pericoloso investire in borsa? Il pericolo è il mio mestiere. Adesso mi ricordo di te. Tu hai suonato pure con Mick Jagger una volta. Veramente, è Mick Jagger che ha cantato con me. Dai, suona This Must Be The Place degli Arcade Fire. No, This Must Be The Place, la cantano i Tolkien X. Ma tu che stai facendo? Sei lì a cercare te stesso, per caso. Sono il mio maxi, comiglia in India. Buon mi solo hot dog. Just a must be having fun. Grazie a tutti